Avvocato Schiavone, l'OS Avellino ha reso pubblico il corpus giuridico del modello di amministrazione. Ecco, i tifosi si chiedono cosa sarà mai. Ci può spiegare in cosa consiste brevemente? Assolutamente e intanto saluto gli ascoltatori. Allora, l'Avellino ha adeguato tutto il suo apparato giuridico alle norme previste da un decreto legislativo nomino soltanto questo come legge, il 231 del 2001. Qual è la funzione fondamentale di tutto questo apparato anche abbastanza complesso? Quello di consentire all'Avellino di essere all'avanguardia dal punto di vista degli aggiornamenti giuridici con il fine di esonerare la società da eventuali responsabilità per commissione di creati, come possono essere per esempio quelli di frode sportiva e che quindi non debbano più ricadere sulla società. Questo si riesce a fare in quanto a giugno 2019 c'è stata una modifica delle norme organizzative interne federali, delle NOIF, che a determinate condizioni consentono alle società calcistiche di esonerarsi da responsabilità. Però c'è anche poi un altro motivo che è specifico, il nostro e proprio dell'US Avellino, che si è dotato, come ormai tutti sapranno da un po' di tempo, di un proprio codice etico, che è un codice dell'Avellino, quindi contiene delle norme che non ritroveremo da altre parti, che è già ovviamente vigente, mi dicevano che ha già prodotto i primi risultati e che consente all'Avellino di dare un indirizzo sia ai dipendenti diretti, quindi calciatori e tesserati, sia a tutti coloro i quali entrano in contatto con la società di calcio, per i comportamenti da assumere. Quindi diciamo un lavoro abbastanza complesso, che si compone di vari step. Fino ad ora abbiamo redatto e approvato il codice etico, che quindi funziona da se solo ed è una cosa a parte e che è veramente una cosa dell'Avellino e basta, tanto che la federazione ha fatto i complimenti alla società per l'adozione di questo strumento e per la qualità di questo strumento. Poi ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, ex decreto legislativo 231-2001, il sistema sanzionatorio e ultimamente la parte speciale contenente le fattispecie di reato. Quindi diciamo che è un apparato giuridico che l'Avellino si ritroverà anche per i prossimi anni, ovviamente non è limitato a questa annualità e a questa categoria, diciamolo pure, insomma andrebbe bene anche per categorie superiori.